Musica Buonasera, in rappresentanza del maestro Antonio Tonelli è qui suo figlio, è venuto a mancare a settembre il suo papà, giusto? Ci dica, lei ci teneva tanto essere qui in questa occasione? Sono molto contento, appunto ritiro io il premio, c'è anche mio fratello Giordano e penso che sarebbe stato contento perché in ogni caso corona 50 e più anni di attività a livello nazionale e internazionale e quindi questa è una buona occasione che mi fa estremamente piacere, ha piacere ai miei familiari, mio fratello e mi immagino anche a mio padre stesso. Quindi è un buon riconoscimento che terremo in evidenza per il proseguo delle attività con la nostra associazione di archivio. Quali emozioni ha provato nell'entrare in questo foyer? Le emozioni sono molto alte per l'ambiente, per il fatto della Grecia, dei Romani, per il fatto dell'organizzazione in sé, quindi mi ero già preparato parlando con le persone con cui sono venuto a contatto e quindi ero già preparato, però l'emozione di questo ambiente comunque anche se ti prepari ti lascia quello che deve avvenire senza troppe preparazioni. Vangono poche parole da dire, sentimento è quello che conta. Grazie, a più tardi sul palco. Grazie a voi. Mio padre non ha fatto in tempo perché è mancato settembre dell'anno scorso e di conseguenza lo ritiriamo noi con orgoglio, forse ancora più alto di quello che avremmo avuto se lo avesse ritirato lui, perché questo premio per la sua importanza e per la sua profondità di contenuto in realtà diciamo corona i suoi 60 anni di attività e di conseguenza è doppiamente importante. Il premio evidentemente entrerà nella fondazione dell'archivio e farà pregio alla fondazione e spero che possa essere anche a sua volta rigirato il fatto in sé della sua importanza anche verso l'Accademia, proprio perché pensiamo che questa conoscenza che abbiamo fatto negli ultimi mesi è avvenuta velocemente, è avvenuta in modo così strano perché io andando nello studio a mio padre ho preso della posta, ho visto che c'era l'invito e siccome non ci andavo tutti i giorni ho visto che c'era questo invito e ho corso ai ripari cercando di recuperare il tempo dal punto di vista dell'organizzazione. Quindi ringrazio di cuore l'Accademia, ringrazio gli organizzatori perché giro abbastanza al mondo e è un'organizzazione così non se ne vedono molto quindi doppiamente grazie a tutti voi e quindi grazie e riceveremo, riceviamo con estremo orgoglio questo premio. Se vuoi dire qualcosa... Ha detto tutto mio fratello, grazie ancora. Per anzianità, per anzianità e quindi... Grazie a tutti!